I imprenditrici di ogni settore e tipologia si sono riunite domenica nella sede di Confcommercio Marche Nord in occasione del convegno Leadership al Femminile, una svolta culturale verso l'innovazione e la sostenibilità. Un appuntamento organizzato dall'Associazione di Confcommercio Terziario Donna per tavoli di confronto sulle dinamiche di cambiamento che intercorrono nell'imprenditore al femminile dal tema della leadership a quello dell'innovazione, dal management alla sostenibilità ambientale. Si parlerà del futuro, del futuro dell'imprenditoria femminile e di quelle che sono le aspettative e prospettive per creare nuove imprese, imprese diverse con una visione molto nuova dati i relatori che sono tutti i relatori importanti e anche le nostre imprenditrici locali sono imprenditrici d'eccellenza. Oggi nell'impresa vince proprio chi innova, chi si riconduce anche ad essere un'imprenditrice flessibile, chi anche crea partnership importanti a livello relazionale ed è proprio questo oggi l'incontro poi che abbiamo voluto fortemente con Confcommercio, con il Terziario Donna, Confcommercio di Pesaro Urbino, creare una sinergia tra imprenditrici che possano in questo network relazionale di oggi sicuramente ispirarsi l'un l'altra attraverso delle storie di successo. Parleremo di felicità economica, quindi un aspetto veramente interessante, cercheremo di affrontare questo argomento sia per quanto riguarda l'impresa sia per quanto riguarda la donna in generale, chi non ha a che fare con la finanza, con l'aspetto finanza. Quindi lo cercheremo di affrontare in modo leggero e dando spunti e desiderio di conoscenza, consapevolezza e coraggio.